La fase della ricrescita continua della messa in sicurezza pure era apparso chiaro fin dall'inizio. Sarno aveva subito fatto intendere che non si sarebbe piegata all'incendio che lo scorso mese di settembre ha distrutto ettari ed ettari di vegetazione sul monte Saretto. La prima fase di intervento è già conclusa, ma come annunciato dal sindaco Giuseppe Canfora, il lavoro andrà avanti. Stanno proseguendo, la prima fase è stata conclusa con una bellissima opera di palificazione, di rimozione macerie, di rimozione sassi, di rimozione alberi. La briglia è stata ripulita, è stato ripulito il valloncino, sono state rimosse le pietre che sono cadute giù, i rocciatori hanno bloccato i massi pericolanti, ma la buona notizia è che continueranno i lavori, probabilmente per la festa dell'albero. Grazie.